Sì Grazie a tutti. dobbiamo uscire uscire un gigantone a a a a E' comodo? Sì, è comodo. Sì, va bene. Sì, va bene. Quasi, lo sgonfiamo prima, così, a mano, e poi l'ultimo pezzo lo facciamo con la pompa elettrica. Adesso? Adesso premi. Qui? Sì. Quasi, lo sgonfiamo? Quasi, lo sgonfiamo? Quasi, lo sgonfiamo? Quasi, lo sgonfiamo? Grazie.